Euro Regione News Monte Coglians sei il più alto e ti celebriamo Iniziative fino a settembre per celebrare il Monte Coglians la più alta vetta del Friuli Venezia Giulia conquistata 150 anni fa dal grande esploratore viennese Paul Groman insieme a Niccolò Sottocorona Comune proloco di Fornia Voltri, il CAI e l'Asca associazione delle sezioni montane del CAI organizzano un convegno, escursioni botaniche e geologiche ci sono anche gadget, una speciale cartina a tabacco e il piatto Groman Se i ciclisti scendono lungo la canale del ferro per il Coglians cosa ci si può immaginare? Il presidente della provincia friulana Pietro Fontanini Adesso noi dobbiamo forse in questo contesto qui del Coglians e quindi della zona delle carniche puntare di più agli escursionisti Celebrare il Coglians con quali obiettivi? La risposta del presidente dell'Asca Giulio Magrini Il motivo più importante è quello di intensificare i rapporti fra gli alpinisti carenziani e i carnico friulani Un secondo motivo altrettanto importante è quello di far sapere che il Coglians è la montagna più alta ed è importante andare in estrema sicurezza E il consigliere regionale Vittorino Bohem Le cose belle ce le abbiamo, dobbiamo metterci l'amore, la capacità di rappresentarlo Ciò che oggi ci viene presentato è questo Il calendario completo su euroregionews.eu I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionews.eu www.euroregionews.eu